buonasera a tutti e benvenuti su questo canale oggi andremo a scoprire con voi i regali di natale che io farò ai miei amici e andremo anche ad aprire con voi questo cofanetto di 12 casellini di senza i questo penso che non possiamo chiamare calendario dell'avento perché questo esce tutti gli anni e mi sembra anche che all'interno troviamo sempre gli stessi prodotti anche il design è lo stesso perciò lo chiamerò un regalo io l'ho comprato su gb in profumerie con lo sconto di 30 per cento mi sembra 100 170 euro 12 caselline chi non conosce il brand di senza i questa marca è giapponese è una delle marche lussosi a diciamo che a livello contaccia mi piace tantissimo la loro idea della doppia detersione doppia idratazione il brand veramente molto molto valido se non l'avete mai testato oggi vi racconterò con quali prodotti dovete iniziare per innamorarvi di questo brand io direi che possiamo iniziare con i cofanetti regalo e lasciamo alla fine il nostro cofanetti di 12 caselline il nostro calendario dell'avento ma adesso vi parlo un po di cofanetti regalo che potrebbero essere molto utili li potete acquistare con un prezzo abbastanza accettabile io vi parlerò di un attimo che entro anche sul sito e vi dico di preciso quanto ho pagato su questi prodotti questi cofanetti ho comprato sul sito di privalia io sensai e compro sempre lì perché una volta al mese escono queste promozioni che hanno veramente bei sconti su sensai normalmente sul finale o su altri siti non vedanno più di 20 per cento su questo sito posso tenere anche 30 perciò lo preferisco ok iniziamo con il cofanetto di chiller performance lotion limited edition qua abbiamo il lozione nella full size nella pressione piena poi abbiamo olio detergente che uno dei miei prodotti preferiti veramente il miglior olio detergente che esiste sul mercato e abbiamo il silky purifying clear gel wash questo è il secondo step della detersione il sensai molto buono anche perché voi potete loro sono suddivisi su primo step e il secondo step e voi potete scegliere il primo step la texture che vi piace di più mi sembra che c'è un gel c'è questo olio e ci sono altri prodottini e poi anche il secondo step questi sono ovviamente i campioncini io l'ho acquistato al prezzo di 59 99 nella mentalità di sensai il primo step che andate utilizzare è la detersione del viso in due step dopo avete il tonico e l'ossione dopo avete lo siero e la crema idratante e ovviamente ci sono anche le mascheri idratanti che potete utilizzare la notte questo prodotto mi piace tantissimo non ho deciso ancora se lo regalo o lo tengo per me ma è veramente un buon 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 prodotto ovviamente se volete conoscere il brand non è il primo prodotto che vi consiglio di acquistare ma se lo conoscete già questo un ottimo lozione il secondo cofanetto che vado a mostrarvi è questo che contiene il silk peeling powder è la polvere enzima per detergere la vostra pelle io principalmente per il mio tipo di pelle o la pelle mista posso usarlo anche tutti i giorni non mi da problemi questo è la versione piena di 40 grammi e poi abbiamo ancora un clean oil nella versione piccolissima e 15 cream che anche il primo step non abbiamo penso che il secondo stella detersione usate proprio questo e potete provare questi due e capire quale testo vi piace di più questo anche un ottimo ottimo questo io ho pagato 56 euro e 99 centesimi sul sito di trivalia il prossimo cofanetto è quello più lussoso è veramente quello che vi fa innamorare subito del brand abbiamo questo absolute silk micro mousse treatment voi avete una crema che diventa un mousse che va a eliminare e idratare la vostra pelle avete la piena versione di 90 ml e avete dentro anche il cleansing oil ancora clear gel wash e la crema eliminante quella di base 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 questo cofanetto l'ho pagato 130 euro è quello più costoso di tutti penso perché questo trattamento di mousse è veramente veramente molto valido è molto efficace e l'ultimo cofanetto il quarto per chi ama le labbra idratate veramente sempre sempre perfetti qui abbiamo il loro classico total lip treatment questo è nella colazione quella neutra perché hanno questa versione anche con il colore e abbiamo cleansing oil ancora e clear gel wash diciamo voi comprate un prodotto pieno e avete due campioncini di solito di solito se andate sullo stand di senza e comprate qualcosa vi danno lo stesso i campioncini perciò anche a me hanno regalato tantissimi perciò questo un buon 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 prodotto e adesso passiamo alla parte più interessante di questo video abbiamo il nostro cofanetto con 12 caselline di senza i loro lo chiamano fuori di gift andiamo ad aprirlo adesso vi dico se veramente ok guardate che sono io adoro questo nero opaco mi sembra che stiamo parlando dello stesso cofanetto si giusto lo stesso cofanetto anche dell'anno scorso che hanno questo packaging molto 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 bello tutte le caselline sono sono veramente da toccare piacevolissimi questo stile giapponese un po orientale mi piace tantissimo veramente molto 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 bello e adesso andremo ad aprirlo insieme con voi ok la prima casellina magari ve lo faccio vedere così è più bello la prima casellina andiamo ad aprirlo insieme e abbiamo dentro il micro mousse treatment abbiamo questo mousse nella 45 ml di absolute seal questo è veramente un prodotto eccezionale per la vostra pelle se volete provare vi faccio anche un test perché ugualmente l'ho finito faccio vedere avete una schiumetta che va proprio diventare un acquetta un mousse veramente molto 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 buono e ha una profumazione molto molto neutra di fiori di un aroma molto 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 di un tè giapponese molto 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 bello mi piace tantissimo è un ottimo è un ottimo prodotto la casellina numero 2 guardate che bell'ornamento che c'è qui sopra veramente mi fa innamorare questo questo prodotto è veramente molto 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 questo calendario è fatto molto molto bene e abbiamo absolute seal fluid abbiamo ancora un fluido uno siero praticamente di absolute seal di questa linea penso che vanno ad applicare primo primo nuovo poi all'altro questo penso non ho mai testato abbiamo anche il packaging molto 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 bello abbiamo il packaging super brillante mi piace tantissimo veramente se non vi innamorate di questo brand come me io non so cosa dirlo numero 3 guardando la confezione direi che all'interno troviamo una crema abbiamo tutto applicato molto 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 bene ragazzi abbiamo una crema di versione piena abbiamo una crema di 15 ml vabbè non è una versione piena ma è una bella versione di crema 15 ml di questa crema idratante di absolute silk veramente molto 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 bella io sono contentissima di riceverla la casella numero 4 guardate com'è bello questo 4 veramente super super bello è pazzesco andiamo ad aprirlo e abbiamo dentro il clean zinoi penso che questo proprio il prodottino che troveremo quanti ml abbiamo qui il 30 ml ma mi sa che qua abbiamo sì giusto in questi copanetti troviamo proprio un campioncino così questo olio veramente perfetto per la detenzione della vostra pelle l'ho applicato sulle mani io di solito di quella versione piena applico due pamperte lo spalmo toglie benissimo il mascara il trucco pesante con i ombretti eccetera questo veramente il prodotto più valido della tutta linea di sensei io amo anche la versione gold che costa un pochino di più ma ha un aroma e anche una texture un po' diversa che è veramente molto molto bello passiamo al prodottino numero 5 il 5 abbiamo cosa abbiamo qui all'interno? abbiamo un silky purifying creamy soap abbiamo il sapone detergente per il viso questo qui molto 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 bello abbiamo 30 ml direi che questo veramente una versione valida dimentichiamo per favore del calendario dell'avvento di Almer che mi ha fatto veramente piangere questo mette i prodotti veramente molto 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 buoni andiamo alla casellina numero 6 abbiamo un prodotto inquadrato? vediamo cosa abbiamo all'interno abbiamo all'interno ancora qualcosa ah perfetto abbiamo una una maschera notte idratante quello super super idratante che va a trasformare la vostra pelle in una notte vi fa diventare la pelle come di un neonato molto molto bella ha una teccia di gel la lasciata tutta la notte come anche le creme di Laneige o le creme di dottor jar sono molto molto buone questo mi piace molto passiamo alla casella numero 7 qui abbiamo un prodottino sottile vediamo cosa c'è all'interno cosa abbiamo qui? ragazzi è buoto vabbè ragazzi abbiamo un patch oki comunque vabbè abbiamo un patch oki da provare io penso di non aver mai provato il patch oki di Sensai e questo sarà un'ottima occasione per provarlo e vederlo se veramente sono validi o no io uso già da tanti anni i patch di Shiseido perché mi coprono bene bene la zona mi piacciono tantissimo vedremo se questi validi o no allora passiamo alla casellina numero 8 guardate che bello questo packaging ancora una casella ah che bello abbiamo proprio ragazzi questo cofanetto sicuramente va regalato perché abbiamo adesso il lip gloss nella versione piena ve la faccio anche vedere qui già regalo quello lì abbiamo lo scovolino vado a è un colore neutro va veramente guardate come brillano le labbra veramente una cosa pazzesca ha una sensazione molto 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 bella mi piace tantissimo l'effetto sulle labbra sono contentissima di riceverlo ragazzi vado non lo rimetto nemmeno nella casella vado a metterlo nella mia borsetta che mi piace molto e passiamo alla casellina numero 9 nella casellina numero 9 troviamo ah troviamo il loro mascara 38 gradi questo qui è mi sa che non si vede vabbè ragazzi è un'ottima mascara non lo apro perché ha solo 3 mesi di scadenza dopo l'apertura magari lo apro quando vado in viaggio abbiamo la casellina numero 10 siamo ancora in una casellina molto molto piccola vediamo cosa abbiamo all'interno ancora niente ragazzi ok abbiamo total lip treatment allora abbiamo il prodottino no abbiamo proprio questo total lip treatment prodottino questo qui all'interno e il trattamento mi sono sbagliata sapete perché? perché questo prodotto è quello che ho acquistato sul sito a parte e l'ho pagato 34,99 solo a lip gloss questo qui 34,99 vi ricordo che questo calendario ho pagato 103 170 euro allora abbiamo questo il lip treatment questo prodotto è diverso questo prodotto va a curare le vostre labbra se avete le labbra distrutte, secche lo applicate la sera e al mattino trovate una cosa immaginabile veramente vi trasforma le labbra in una notte questo è un prodotto chi soffre in inverno della secchezza proprio proprio perfetto allora ragazzi siamo a due ultime caselline che è bella bella pesantina andiamo ad aprirla e vediamo cosa c'è all'interno e abbiamo ok abbiamo tour and boost lifting effect questo siero è per la zona di décolleté io ho nella versione piena lo amo ad usare l'unico problema per me in questo periodo che io sento tantissimo il profumo di alcol proprio alcol all'interno io non so come funziona questa cosa ma non mi secca la pelle ma all'inizio ho difficoltà di applicarlo è un buon prodotto ma c'è questo piccolo minus che ha dopo il calendario di avvento di Cal Beauty mi sa che non mi serve un consiglio per la zona di décolleté perché ho tantissimi colori del viso per usare la casellina numero 12 ragazzi l'ultima corolla è come bella nera bianca e abbiamo all'interno body film and emulsion ragazzi abbiamo una emulsione per il corpo una versione piccola piccola abbiamo 20 ml di questa emulsione io l'ho provata sotto la crema ovviamente perché questa è molto 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 poco idratata idratante è una buona cosa una buona 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 io sono contenta di riceverla e questo era l'ultimo prodottino adesso vado a ricuderlo e ve lo faccio ancora vedere questo è il cofanetto perfetto per scoprire il brand di Sensai e innamorarvi di questo brand io l'ho comprato sul sito di G.Vin Profumerie vi lascio il link sotto non so se c'è ancora lo sconto ma penso che questo cofanetto potete trovare anche il prossimo anno se quest'anno sono andati già sold out io ve lo consiglio tantissimo di provare vi innamorate e veramente questi prodotti che ne ho ricevuto mi basteranno per un po' di tempo perciò sono anche molto molto ecologici il calendario è veramente molto molto bello io sono contentissima di questo questo mi ha soddisfatto al 200% e cosa posso dire iscrivetevi al mio canale mettete un like a me fa molto piacere perché così mi appoggiate io vedo che vi piace quello che faccio e ci vediamo nei prossimi video dell'apertura del calendario della mente grazie grazie